Nel piccolo villaggio di Femmes-les-Moutiers, diocesi di Dijon, in Francia, il giorno 2 del mese di maggio del 1806, da Pietro Labouret e da Luisa Maddalena Gontard, è nata Caterina. Le si è poi aggiunto anche il nome di Zoe, forse perché è nata nel giorno della festa di questa santa. Nona di undici figli ricevette un'educazione profondamente cristiana, ma non frequentò mai alcuna scuola, e solo più tardi imparò a scrivere, senza però avere mai una vera padronanza della sua lingua scritta. Nella sua infanzia, così come in tutta la sua vita, non vi fu mai nulla di straordinario in lei, ma un episodio sembra essere premonitore del suo particolare amore a Maria e del compito che la Vergine poi le affidò. All'età di nove anni perde la madre che aveva saputo infondere in lei tanto amore alla Madonna. Un giorno che la piccola sembrava particolarmente presa dalla nostalgia della mamma, fu vista da una domestica entrare in casa e, come ispirata, prendere una sedia, montarci sopra e, tendendo le mani tremanti, prendere la piccola statua della Madonna esposta sull'altarino di casa. A lei, abbracciandola, disse con affetto, ora tu sei l'unica mia mamma. A dodici anni, partita la sua sorella maggiore per entrare tra le figlie della carità, si prese cura lei della casa, aiutata da una domestica per i lavori più pesanti. All'innocenza univa anche la penitenza, digiunando il venerdì e il sabato. E quando andava in chiesa, non si metteva nei banchi, ma si inginocchiava sul pavimento. Intenso era anche il suo amore a Gesù eucaristico, e perciò non si accontentava di partecipare alla messa ogni domenica, ma spesso vi andava anche nei giorni feriali, nonostante il lavoro e la distanza, dato che nel suo villaggio non sempre si celebrava la messa, e perciò doveva recarsi in un paese vicino. Impegno Affidiamoci alla Vergine Maria, mettiamo tutto ciò che siamo e che abbiamo nel cuore, nelle sue mani, e chiediamole di portarci ad amare sempre più il suo figlio Gesù. Aveo Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricordiamo a te, e per quanti a te non ricordano, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Grazie a tutti.